Sapete cos'è questa? Questa è la mia RTX 3080 Vision OC di Gigabyte ed è passato un anno più o meno da quando le RTX 3000 sono state annunciate e sono state messe in vendita sul mercato mondiale. Adesso vediamo un pochettino se l'acquisto di questa scheda video è stato ripagato nel tempo o è stato un fiasco totale. Stanchi di questa scritta? HisFan è il sito dal quale acquistare le chiavi dei vostri videogiochi e dei software di cui avete bisogno. Grazie alla loro promozione Black Friday avrete un 50% di sconto su una media di software. Basterà cliccare su acquista ora, aggiungere il prodotto al carrello, visionare il carrello e inserire il codice sconto ZT50 per un 50% di sconto su un prezzo già abbastanza conveniente. Dopodiché procedere al checkout, pagare col metodo da voi preferito, andare nella sezione attivazione di Windows e inserire la chiave che avete ricevuto nel vostro account. KissFan, che storia. Prima di andare al vivo del video vi dico che il prossimo che uscirà sul canale sarà direttamente collegato a questo perché andremo a vedere qualche metodo per non essere scammati durante l'acquisto di schede video usate. Perché questa scheda video dovrebbe costare circa 800 euro invece al giorno d'oggi si riesce a trovare anche sulle 1300-1400 euro. Quindi l'unico modo per avere delle schede video sempre sovrapprezzate certo ma a prezzo un pochettino minorato e magari acquistarle usate e molte persone credetemi rischiano di essere decisamente imbrogliate da venditori che vogliono fare un pochettino troppi furbetti. Ma soprattutto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella così da non perdervi il prossimo video. Ma adesso veniamo a noi 17 settembre 2020 le RTX 3080 arrivano sul mercato sono in vendita e tutti i siti di tutti i venditori mondiali crashano perché c'erano le persone che dalla serie 1000 non avevano upgradeato le loro schede video perché la serie 2000 diciamoci la verità era troppo costosa e aveva poca differenza di performance dalla serie precedente appunto. Per farvi capire la mia 2080 andava sì e no un 10% in più rispetto alla 1080 Ti. Poi con aggiustamenti software questo gap si è allungato, non è obsolescenza controllata, è semplicemente secondo me ottimizzazione delle performance nel tempo. Ad ogni modo queste schede video e in particolare la 3080 erano un ottimo compromesso prestazioni prezzo perché la 3080 Founders Edition veniva a costare 719 o 729 euro al lancio e questo modello veniva a costare poco di più e stiamo parlando di una scheda video che in alcune istanze va decisamente il doppio rispetto alla 2080. Stiamo parlando di una scheda video che è decisamente il miglior prodotto se volete giocare in risoluzione ultra wide QHD perché questa scheda video sebbene possa farvi giocare in 4k a una marea di titoli non è la scheda ideale per il 4k a un altissimo frame rate tranne in alcuni particolarissimi casi. Ragioniamo un attimo per assurdo. MSRP 720 o 730 euro è un ottimo prezzo per una RTX 3080. Io lo so che al giorno d'oggi non si trova a sto prezzo, è impossibile. Io questa qui per farvi capire l'ho pagata con tutte le spese di spedizione a gennaio 2021 1050 euro. 1050 euro per me sembravano davvero troppi soldi per una scheda video. Non ho mai speso tutti questi soldi per una scheda video ma la 3080 dato che oggi arriva a costare appunto anche i 1200, 1300, 1400 euro. Beh al momento mi sento molto molto fortunato di averla acquistata per soli tra virgolette 1000 euro. Ad ogni modo dobbiamo un attimo parlare del fatto che il lancio di queste schede video non è stato assolutamente dei migliori. Infatti tutti voi ricorderete che c'erano pochissimi esemplari al lancio ma come oggi i prezzi di prevendita o comunque dei placeholder nei negozi continuavano a salire dato poi lo shortage che comunque stava cominciando a farsi sentire. C'erano dei tempi di attesa decisamente lunghi. Per farvi capire io all'inizio volevo comprare la 3080 TAF che era una scheda video che secondo me andava benissimo. L'ho acquistata da un famoso rivenditore italiano di cui non farò il nome ma tutti noi ci siamo passati per quel rivenditore quindi è inutile. Sappiamo benissimo chi sia. Al che ho deciso di cambiare comunque dalla 3080 TAF che comunque veniva a costare 900 euro fondamentalmente alla ROG Strix perché in quel periodo costava 970 euro. Con 70 euro di differenza ti porti a casa una scheda video top di gamma con dissipazione top di gamma e alimentazione con tre connettori da 8 pin. Per 70 euro in più ho detto sì dai voglio cambiare il mio ordine. Il problema è che all'inizio io questo ordine l'ho fatto a settembre si prevedeva l'arrivo a fine ottobre. Da fine ottobre siamo passati a gennaio. Da gennaio siamo passati a marzo. Per fortuna grazie a un utente del canale Ugo davvero grazie e grazie a Giastrackit siamo riusciti a trovare questa vision o sì come ho detto se non sbaglio nemmeno in Italia forse dalla Spagna o dalla Francia comunque intorno ai 1000 euro e beh alla fine ho deciso di acquistarla. Ma i problemi che si sono susseguiti poi dopo il lancio di questa RTX 3000 non sono stati pochi. Tutti noi ricordiamo i condensatori in ceramica o i postcaps che praticamente davano problemi quando la scheda video arrivava a frequenze molto alte. Vi posso dire che con questa non ho mai avuto un problema a far andare anche la frequenza della GPU oltre i 2000 MHz non c'è mai stato un crash di sistema. C'è stato però quello che io chiamo il limite del silicio cioè una volta fatto l'overclock e vedendo che il benchmark non partiva proprio crashava all'inizio non è colpa dei condensatori è solamente colpa del silicio e probabilmente anche del fatto che questa scheda video abbia soltanto due connettori da 8 pin per quanto riguarda l'alimentazione e non 3 come i modelli più blasonati. Dopo il problema dei condensatori c'è stato il problema del surriscaldamento perché raga è inutile girarci attorno. Le RTX 3000 scaldano da morire. Vuoi perché sia un chip molto molto energivoro ed estremamente potente? Vuoi perché l'ottimizzazione da parte di Nvidia e qua purtroppo bisogna bacchettare sulle mani mamma Nvidia non è stata delle migliori perché lo sappiamo tutt'oggi non è assoluto. Queste schede video non sono uscite rifinite perché forse perché AMD stava uscendo con delle ottime schede video e quindi Nvidia ha dovuto affrettare il lancio o forse perché Nvidia sapeva che ci sarebbe stato uno shortage o comunque ovviamente già c'era lo shortage al momento che poi Nvidia sapeva che sarebbe esploso e quindi si sono affrettati a lanciarle sul mercato. Ma il problema della dissipazione anche in modelli come questo o comunque subito precedenti rispetto a questo qui sono stati decisamente invalidanti per le RTX 3000. Sappiamo che c'erano modelli in cui i pad termici sulle memorie VRAM non venivano messi assolutamente e su delle GDDR6X che arrivano a misurare anche 94 95 100 gradi di temperatura in alcuni task beh mi sembra decisamente una mancanza di attenzione abbastanza grave e come se io nella macchina non metto il radiatore per far raffreddare l'acqua. Mi sembra una cosa abbastanza importante ecco della serie Ehi Bob hai messo i pad termici sulle VRAM delle 3080? Eh penso di sì. L'ultima problematica che mi sovviene al momento che ho trattato anche io sul canale è il fatto che le schede video non siano assolutamente efficienti. Questa 3080 riesce a dare prestazioni migliori dello stock abbassando il power limit dal 100% all'80% con un overclock di 140 MHz sulla GPU e un piccolo overclock sulle memorie. Che significa questo? Significa che ok la scheda video non ha avuto delle temperature più basse ma perché il sistema di dissipazione triventola funziona abbastanza bene su questo modello devo essere sincero funziona decisamente bene. Diciamo che la scheda video assorbe un quantitativo maggiore di corrente rispetto a quello che può utilizzare veramente perché se con 290 watt di consumo tu mi dai le stesse prestazioni dello stock se riesce a acciucciare 360 watt perché questo è il limite di questa scheda video 360 watt dovresti darmi delle prestazioni in più. Hai più energia da consumare nei consumi di più quindi devi darmi più prestazioni. Abbiamo visto purtroppo che non è così. Il verdetto finale di questa scheda video qual è dopo un anno di utilizzo? Raga dopo un anno di utilizzo io credo che la 3080 sia una grande scheda. È la migliore secondo me della sua fascia di prestazioni e di prezzo perché abbiamo a 500 euro la 3070 ma la 3070 è un altro tipo di scheda questa è ottima per giocare in ultra wide qhd a un frame rate molto alto e in 4k riusciamo comunque a giocare a titoli anche tripla senza alcun problema molto molto grande. La 3070 invece è una scheda per il qhd ad alto frame rate quindi sono due risoluzioni tonalmente diverse al doppio del prezzo c'è la 3090 che va il 15 20% in più ma costa il 100% in più quindi capite benissimo che non è proprio il modo migliore di spendere i vostri soldi. Ci sarebbe la 3080 ti che fondamentalmente va come una 3090 sì ma se fosse stata messa a 999 dollari 999 euro msrp avrebbe decisamente spazzato la 3080 seriamente parlando perché una 3090 a 1000 dollari è tanta roba il problema è che ne costa 1200 o 1300 non ricordo precisamente quindi no costa troppo per le prestazioni che ha io sono estremamente contento di questa scheda. Lo so che molti di voi diranno sì purtroppo queste schede non si possono acquistare al momento perché costano un casino di soldi e fidatevi a me dispiace tanto per le persone che non hanno potuto acquistare questa scheda o che non si possono godere le prestazioni in game in produttività o comunque in qualsiasi altro servizio che sfrutta un'accelerazione grafica ma questa scheda è decisamente fantastica. Come ho detto nei videogiochi il frame rate è assurdo. Il ray tracing su una 3080 è da migliorare ma non è colpa della 3080 è proprio il ray tracing che è ancora decisamente acerbo secondo me come tecnologia. Il DLSS aiuta tantissimo ma stiamo parlando poi di pulizia grafica non proprio al top eccetera eccetera ma in prestazioni grezze questa scheda è fantastica sia per il gaming sia per la produttività l'accelerazione CUDA è qualcosa di cui io non posso più fare a meno quando edito un video su premiere. Lo streaming tramite l'embank è qualcosa di fantastico con questa scheda video si riesce tranquillamente a streamare usare nvidia broadcast giocare ad altissimi frame rate tutto allo stesso momento ed è una cosa che sinceramente parlando non mi sarei mai aspettato credetemi mai aspettato il salto prestazionale dalla serie 2000 alla serie 3000 è davvero davvero grande per cui dopo un anno di utilizzo io sono estremamente estremamente innamorato di questa scheda non perché sia la più potente ma perché utile fondamentalmente perché utile perché ha un prezzo giusto e non dico regalata ma è pagata il giusto fondamentalmente ed è una scheda che secondo me è un peccato che sia uscita in questo periodo perché avrebbe fatto contenti molti giocatori molti content creator e anche utenti che utilizzano le schede per altri scopi per farvi capire questa scheda mi piace realmente tanto che nei prossimi giorni vedrete un video in cui la apro tolgo il dissipatore custom di gigabyte e la metto sotto liquido con un AIO di alphacool l'ice wolf versione 2 quindi non mancate perché sarà un video molto molto interessante forse con un ospite speciale ancora non è sicuro ma probabilmente ci sarà un ospite speciale detto ciò ragazzi voi che scheda video avete in tutto ciò siete riusciti ad accaparrarvi una serie 3000 magari ad un prezzo giusto fatemi sapere nei commenti perché sono estremamente curioso fatemi sapere cosa ne pensate della 3080 in particolare e quale modello avreste voluto comprare se foste stati in grado di acquistarla o appunto se l'avete acquistato qua l'avete acquistato cioè sono chiacchieriamo un po facciamo le cose da nerd della serie io c'ho questa figurina tu quale hai vogliamo far scambio no questa non la scambio con niente e nessuno vi ringrazio per aver guardato il video ci vediamo un prossimo video in cui parliamo di evitare gli scam acquistando schede video usate grazie ancora e ci vediamo alla prossima sempre qui sul punto di g sempre qui col vostro g ciao ciao ciao